Da Duanot a Robert Frank, da Willy Ronis a Cudelca. A Villa Medici fino al 15 gennaio saranno esposte 150 foto della più importante collezione privata di Francia, quella di Florence e Damien Bachelot. Nella mostra Collezion si ripercorre un secolo di storia dell'immagine, dalla fotografia francese umanista dell'inizio del XX secolo alla fotografia di strada americana a reportage moderno ai ritratti documentari contemporanei. Il direttore dell'Accademia di Francia a Villa Medici e curatore della mostra, Sam Sturze, spiega. In questa collezione ritroviamo i più grandi nomi della fotografia internazionale, Henri Cartier-Bresson, Brassai, Duanot, ma anche gli americani Robert Frank, Joel Mayerovitz, Paul Davidson, Paul Strand e poi tante scoperte. Fotografi meno conosciuti, molte donne fotografe come Janine Nieps e Sabine Weiss, che ci ha lasciato lo scorso anno a 90 anni, e poi qualche fotografo italiano come Giacomelli e Luigi Ghirri. Sulle pareti della grande scalinata troviamo una straordinaria serie di 40 stampe d'epoca di Soul Lighter, che testimonia con il passaggio al colore una svolta verso la seconda metà del secolo. Mentre fotografi come Mohamed Bourouissa, Veronique, Elena e Laura Enno ci mostrano i loro ritratti contemporanei.